Cancro, giornata tutto sommato positiva, anche se questa non è probabilmente una luna bellissima quella che transita nel segno dell'acquario, però può essere preziosa, può essere preziosa per chi deve sistemare dei contratti, per chi deve ridiscutere degli accordi professionali, perché vi aiuta proprio a vederci chiaro e soprattutto vi aiuta ad evitare dei trabocchetti ai vostri danni. L'amore non è ancora il massimo per quanto vi riguarda, siete sempre lì a lamentarvi dell'assenza del vostro partner, vorreste magari qualche attenzione in più, qualche coccola in più. Vedrete che arriveranno, arriveranno magari anche già da domani.